Siamo nel 2012, Obama sta per essere eletto per la seconda volta come Presidente degli Stati Uniti per il suo secondo mandato. Il mondo è preoccupatissimo per quello che potrà accadere a dicembre, ve lo ricordate? Il 21 dicembre 2012, il 12-12-12, l'apocalisse, i maia, quelle cose lì. In quello stesso periodo, novembre del 2012, Bitcoin segnava un picco relativamente al suo prezzo di circa 12 dollari. Avete sentito bene 12 dollari, ma nello stesso momento avveniva il primo halving dal mining, dalla creazione di 50 Bitcoin per blocco a 25 Bitcoin. Flash temporale 2016, il mondo è nel pieno della sua guerra terroristica nei confronti dell'ISIRS, mondo contro terroristi. Annizza una strage importante, purtroppo molto brutta e anche ricordata. Theresa May sta per essere eletta in UK come primo ministro e in Turchia colpo di stato fallito nei confronti del Presidente della Turchia. Sotto tutta questa massa di informazioni, intorno ai 630 dollari, avete sentito bene, prima erano 12, ora sono 630, Bitcoin fa il suo secondo halving. E passa ad avere una produzione ogni blocco da 25 Bitcoin agli attuali 12,50. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Parliamo dell'halving, iniziamo a buttare giù una serie di numeri e cerchiamo di capirci un po' di più. Cosa è l'halving e di come modifica la struttura fondamentale di Bitcoin? Cosa è successo nel passato con una serie di numeri importanti sul timing ragazzi? Vi dico già da subito che non sono i soliti dati che troviamo in rete, quindi state sul video perché ne vedremo delle belle e poi nel prossimo faremo anche la previsione di prezzo, quella relativa a quello che penso io con i dati modificati e la statistica in mano. Ma prima di andare nel vivo del video vi devo chiedere di iscrivervi al canale ragazzi. Se ancora non l'avete fatto è come sempre un pollice in su perché mi aiutate su YouTube e mi fate capire se vi piacciono questi contenuti. Cos'è l'halving di Bitcoin? Ragazzi Bitcoin è una criptomaneta che viene prodotta per chi non lo sapesse attraverso la blockchain. La blockchain e i miners che sono semplicemente dei computer con una CPU potentissima ragazzi connessi a questa rete che risolvono dei problemi di criptografia. Che parolone, criptografia? Criptografia semplicemente risolvono delle password, in pratica trovano delle password ragazzi per aprire questo blocco. Molto semplicistica però comunque risolvono questi problemi di criptografia e in questo modo fanno transitare le informazioni, le scrivono all'interno di questi blocchi della blockchain, questi grandi computer e queste informazioni resteranno lì scritte, trasparenti, incancellabili come nelle canzoni più famose e indelebili nel tempo ragazzi. Questa è la bellezza della blockchain, questo lavoro svolto dai miners che sono persone dietro, la stragrande maggioranza ragazzi sono delle grandi aziende, delle pool che fanno questo mining, questi miners vengono ricompensati perché questi ASIC ragazzi consumano che non avete idea. Io ne ho avuto diversi qui. Aspettate un attimo. E non ci credevate, eccolo qui davanti a voi ragazzi, questo è un miner, è un miner che è quello che fa la blockchain ragazzi, questo apparecchietto qui in, vi dico la verità, non è questo un miner per fare lo shadow 56 che è il protocollo che crea i bitcoin ragazzi, questo faceva un'altra coin ormai in disuso perché quello che avevo, quelli che avevo ne avevo di più, ne avevo abbastanza, erano, li ho venduti ragazzi il tempo fa quando il mining è diventato più profittatore. Ma volevo farvelo vedere per toccare con mano questa cosa. Allora questi apparecchi ragazzi connessi alla rete elettrica consumano una barca di elettricità, perciò i miner quando vanno a creare la blockchain devono essere ricompensati in qualche modo perché si devono ripagare gli investimenti che hanno fatto. Gli investimenti sono comprare le apparecchiature che poi all'interno ragazzi, questo è un ASIC di Bitmain e all'interno ci sono 180 processori piccolini. Vi faccio vedere anche questo piccolo alimentatore, questo ragazzi giusto per farvi capire, consuma 1600 Watt ed era collegato 24 ore a consumare 1600 Watt per una singola macchina. Ragazzi che non vi dico, la produzione di Bitcoin era veramente quasi irrisoria per un singolo ASIC. Quindi capite bene quanto costa il processo di creazione della blockchain e quanto costa il processo di mining. Perciò i Bitcoin che vengono creati vanno ai miners ragazzi, esattamente così. Vanno tutti ai miners, sono i Bitcoin vergini, una spettacolare idea, però è proprio così ragazzi, perché sono quelli che non sono mai stati tradati, sono quelli che non sono mai passati da un wallet a un altro wallet, sono puri, codice puro, perché è un Bitcoin mai usato, vergine, esattamente così. Non posso non far trasparire la mia passione sul mining perché il mining è stato il mio punto di ingresso nel mercato delle criptovalute. Io sono entrato sul mercato delle criptovalute facendo mining tanti anni fa e in questo modo ho anche sviluppato una serie di sistemi di trading sulle pull, chiamiamolo così, sono cose un po' particolari, facevamo la scelta della pull giusta per ottenere il massimo profitto dalle macchine di manica, quindi molta efficienza. Vi ho raccontato un pezzo della mia storia. I miners vendono i loro Bitcoin, una buona parte dei loro Bitcoin, per recuperare le spese di energia elettrica. Questo significa che dal 12 maggio in poi i Bitcoin che vengono venduti dai miners saranno la metà. Quindi sul mercato, dal lato dell'order book, avremo metà dei venditori dei nuovi Bitcoin emessi. Poi ci saranno sempre i soliti che fanno trading, quelli che vogliono uscire, quelli che vogliono entrare, questo è normale. Però nella struttura fondamentale della blockchain di Bitcoin, della sua storia, dal 12 maggio in poi metà dei Bitcoin verranno venduti dai miners. Quindi ci sarà il cosiddetto meccanismo deflattivo di Bitcoin. In sostanza ragazzi, si riducono i nuovi Bitcoin. Attenzione perché molti in rete non capiscono la differenza, non si riducono i Bitcoin presenti, quelli aumentano sempre ragazzi, fino a 21 milioni. Quello che si riduce è la vendita dei Bitcoin ogni giorno da parte dei miners. Questo processo potrebbe avere effetti positivi sul prezzo di Bitcoin perché semplicemente c'è meno vendita giornaliera e questo significa che c'è meno offerta di Bitcoin. Se la domanda resta stabile e l'offerta diminuisce, cosa fa il prezzo? Non ve lo dico, mi dovete rispondere voi, nei commenti del video. Vai, commenti. Abbiamo risolto il secondo punto e adesso andiamo sul grafico. Lo so che stavate tutti aspettando questo. Questo evento che vi ho spiegato essere molto importante, alla base è un fondamento importante della struttura, del valore di Bitcoin. Cosa ha fatto in passato? Andiamolo a vedere sui grafici, così vediamo cosa ha combinato durante gli anni passati. Ci sono stati già due halving e vedremo anche, ragazzi, un po' di numeri a livello percentuale. Come sempre, com'è la mia frase? Spostiamoci sui grafici. Bene ragazzi, eccoci davanti al grafico dell'halving di Bitcoin. Allora, vi faccio vedere, intanto il grafico è un daily su Bitstamp logaritmico, ragazzi, che è impossibile non vederlo logaritmico, sarebbe un grafico esplosivo. Allora, ragazzi, vi faccio vedere quello che vi ho detto prima. Novembre 2012, primo halving di Bitcoin. E Bitcoin segna intorno ai 12 dollari e guardate cosa succede. Allora, intanto andiamo ad analizzare dei dati di prezzo e di boom. Poi guardiamo quelli di timing, sapete che io faccio ciclica ovunque, ragazzi, quindi anche in questo caso faremo un po' di timing. Allora, Bitcoin, dopo il primo halving, è passato dal 2012 al 2013, nella distanza di un solo anno, è passato a 1100 dollari ed ha guadagnato, ragazzi, il 9063-64%, ho preso i prezzi dalle close delle candele. Durante il secondo halving, invece, Bitcoin passa da quello che era un prezzo all'incirca di 630-650 dollari, passa al famoso massimo che tutti noi abbiamo vissuto e che conosciamo, che è intorno a 19.200, questa è stata la close del famoso 16 di dicembre 2017, con un tasso di crescita del 2865%. Questo ci dice come l'halving è un evento che ha prodotto sempre questo tipo di andamento, anche se è un sempre relativo, perché solo due casi da un punto di vista statistico non hanno alcuna validità, però, ragazzi, in questo caso non è semplicemente un evento casuale, questo è un evento che, come vi ho spiegato, ha una natura strutturale di Bitcoin, quindi è un evento fondamentale, perché si modifica proprio la creazione della blockchain, è quello che vi ho detto prima sui miners, è una cosa che avverrà di nuovo, non è possibile che non avvenga, quindi quello che stiamo vedendo qui non sono atteggiamenti casuali, ma sono atteggiamenti meccanici, chiamiamo così. Ok, ragazzi, allora guardiamo questa similitudine, abbiamo nel precedente halving 540 giorni tra il minimo e la data dell'halving, tra il minimo del ciclo dell'halving e la data dell'halving, guardate ora, dicembre 2018, al halving attuale, 515-14 giorni, ragazzi, è la stessa identica distanza, perché su 500 giorni, 20 giorni non fanno alcuna differenza. E vi faccio vedere anche un'altra cosa, la distanza fra il massimo del ciclo dell'halving e il successivo halving, vedete, la vediamo qui, è stata di 946 giorni nel primo caso e adesso siamo a 880 giorni, quindi in questo caso c'è una leggera differenza, ragazzi, ma ancora una volta, sono pochi giorni, non tantissimi, sono 70-80 giorni su 900, ragazzi, quindi non è tanto, potremmo dire che è molto simile, in più volevo anche farvi vedere questa cosa incredibile, ma la struttura, la similitudine grafica, ragazzi, guardate la similitudine grafica del ciclo dell'halving, 1, 2, 1, 2, ok? È vero che qui abbiamo avuto questo app, ma dobbiamo anche capire, ragazzi, che i mercati moderni di Bitcoin sono anche completamente differenti rispetto a prima ed è normale che magari c'è stato anche un recupero notevole del mercato di Bitcoin. Allora, questa conclusione ci fa analizzare dei numeri importanti. Intanto voglio farvi una domanda, scrivetemi nei commenti, secondo voi, dopo aver visto questi dati e questi numeri, cosa succederà da qui in poi, dal 12 maggio in poi, secondo voi cosa succederà? Scrivetemelo nei commenti, ma io vi svelo la mia view nel prossimo video in settimana. Abbiamo visto che l'halving non è un processo casuale, quindi questo meccanismo questi dati non possono essere considerati casuali perché l'halving è un cambiamento strutturale del mercato di Bitcoin e abbiamo visto come a livello di timing, quindi il ciclo dell'halving, si è ripetuto come un orologio svizzero, quasi, con delle leggere, piccolissime differenze. Se questo è un'analisi significativa, come abbiamo visto, a livello di timing, a livello ciclico, l'halving potrebbe effettivamente ripetersi nuovamente nella sua stessa struttura e questa è una conclusione molto importante, più di quella relativa al prezzo, perché il prezzo, ragazzi, abbiamo visto che ha avuto un incremento, ma la linearità del rialzo del prezzo non è stata rispettata. Infatti nel primo caso il prezzo è salito del 9000%, nel secondo del 2865%, quindi completamente un altro numero. Questo è normale, ma di questo ne parleremo nel prossimo video.